Maserada sul piave di Varago, i genitori di Aymenada Benamera hanno immediatamente raggiunto il posto della tragedia. La madre è avvolta dal dolore, mentre il papà trova la forza di ricordare il figlio mi dispiace, lui mi dispiace era un bravo ragazzo. Sorridendo sempre, non aveva problemi. È andato giù e ha sempre detto ciao mamma, ciao papà, non beveva. Non so chi fosse, ha sempre fretta di andare fuori con i suoi amici.Today mi ha detto che esco un po'. Ero a letto e mi hanno chiamato per dirmi che mio figlio era stato pugnalato. Sul posto anche l'ex girlfriend che si lasciava andare a un pianto disperaturlando il suo nome Aymen.